Rachel era stata assunta per occuparsi di un uomo anziano in stato vegetativo. Un giorno, mentre erano soli, si avvicinò a lui e ciò che accadde dopo le fece venire i brividi lungo la schiena.Lo squillo del telefono squarciò la quiete del piccolo appartamento di Rachel. Si alzò dalla sedia, dove stava esaminando alcuni appunti, e rispose, aspettandosi che si trattasse di uno dei suoi pazienti o dei loro parenti.Sono Rachel Green. Disse nel suo solito modo amichevole e professionale.Buon pomeriggio, signorina Green. Mi chiamo Ross Rufus e chiamo a nome della mia famiglia. Abbiamo una proposta di lavoro che vorremmo discutere con lei, disse una voce maschile all'altro capo.Rachel fu colta di sorpresa. Raramente aveva ricevuto offerte di lavoro da sconosciuti.Certo, signor Rufus. Di che cosa si tratta?La nostra famiglia si trova in una situazione difficile e ha bisogno di un'infermiera esperta e affidabile.Mio padre, Frank Rufus, è in stato vegetativo da anni e abbiamo bisogno di un'assistenza a tempo pieno a casa, spiegò Ross.Mi dispiace molto per suo padre. Di quali cure specifiche ha bisogno?Rachel chiese, volendo maggiori dettagli.Il signor Rufus ha bisogno di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, compresa l'alimentazione, l'igiene, i farmaci e tutte le cure necessarie per un paziente in stato vegetativo. Ci siamo occupati di lui a turno, ma non è più sostenibile.Per questo motivo stiamo cercando un'infermiera dedicata per un'assistenza permanente, rispose Ross.Capisco. E per quanto tempo avreste bisogno dei miei servizi?Chi is Rachel.Per un periodo indefinito, signorina Green.Nostro padre ha 85 anni e purtroppo le sue condizioni non migliorano. L'ideale sarebbe che un'infermiera vivesse con lui e si prendesse cura di lui a casa, spiegò Ross.Capisco. E che tipo di pagamento offrite per questo servizio?Chiese Rachel.Siamo disposti a pagare una somma mensile molto generosa. Signorina Green.Nostro padre è finanziariamente sicuro e vogliamo che abbia le migliori cure. Offriamo 5.000 dollari al mese e la copertura di tutte le spese di soggiorno a casa nostra, rispose Ross.Gli occhi di Rachel si allargarono. 5.000 dollari al mese. Era più del doppio della sua tariffa abituale.Per un attimo fu tentata di accettare all'istante, ma scelse di pensarci bene.È un'offerta molto generosa, signor Rufus. Posso chiederle perché la sua famiglia è disposta a pagare così tanto per questi servizi?Chiese con cautela.Ross sospirò profondamente prima di rispondere.La verità è che la salute di mio padre è diminuita notevolmente negli ultimi anni. Io e mia sorella abbiamo le nostre vite e le nostre famiglie e non possiamo più dedicargli il tempo necessario.Vogliamo solo assicurarci che riceva le migliori cure possibili.Rachel non era del tutto convinta, ma decise di concedergli il beneficio del dubbio. Capisco. Mi lasci riflettere e le farò sapere la mia decisione. Quando vuole che inizi? Il prima possibile, signorina Green. Mio padre ha bisogno di cure costanti e la nostra attuale infermiera temporanea non può continuare a lungo.Se potesse farmi sapere entro i prossimi giorni, gliene saremmo molto grati, rispose Ross con urgenza.Va bene, signor Rufus, la informerò della mia decisione appena possibile. Grazie per l'opportunità, rispose Rachel.Le invierò le informazioni di contatto via email. Speriamo di poter contare su di lei.Le auguro un buon pomeriggio, disse Ross congedandosi.Lo stesso per te, arrivederci, disse Rachel prima di riattaccare. Rimase a riflettere per qualche minuto sull'offerta.5.000 dollari al mese erano una cifra significativa. Soprattutto perché il lavoro si svolgeva a casa del paziente, risparmiando le spese di trasporto vi divitto. Tuttavia, l'elevata retribuzione la rendeva alquanto sospettosa. C'era dell'altro in questa offerta? Rachel era un'infermiera con oltre 10 anni di esperienza e si vantava di fornire un servizio di alta qualità ai suoi pazienti.Sapeva che occuparsi a tempo pieno di un paziente in stato vegetativo sarebbe stata una sfida, ma anche un'opportunità per mettere a frutto le sue capacità.Inoltre, il denaro le sarebbe stato molto utile per risparmiare un po' e pensare al futuro.Dopo aver riflettuto sulla questione, decise che avrebbe accettato la proposta. Ma prima avrebbe fatto alcune indagini, discrete sulla famiglia Rufus e sulla situazione del signor Rufus. Non voleva rischiare di mettersi nei guai.Rachel controllò la sua agenda, e confermò che non aveva altri impegni di lavoro importanti nei prossimi giorni.Inviò un messaggio ai suoi attuali pazienti per informarli che non sarebbe stata disponibile per un po' di tempo, e poi procedette a redigere una risposta per vos Rufus.Caro signor Rufus, dopo aver considerato attentamente la sua offerta, sono lieta di informarla che accetto l'incarico di occuparmi di suo padre, Frank Rufus. Sono disponibile a iniziare la prossima settimana, se questa data le è congeniale.Prima di procedere, vorrei chiedere alcuni dettagli aggiuntivi.Qual è l'indirizzo esatto della residenza del signor Rufus? Rachel Grimm premette il pulsante di invio e tirò un sospiro. Era entusiasta di questa nuova sfida, ma anche un po' nervosa. Sapeva che doveva tenere gli occhi ben aperti e non farsi abbagliare dal generoso stipendio.La sua priorità sarebbe stata quella di fornire le migliori cure possibili al signor Rufus.Due giorni dopo ricevette la risposta di Ross con le informazioni richieste.La residenza del signor Rufus si trovava in un'esclusiva zona residenziale della città.In un'imponente villa degna di una famiglia ricca.I dati medici indicavano che l'anziano aveva subito un grave ictus cinque anni prima, lasciandolo in stato vegetativo.Aveva bisogno di assistenza costante per l'alimentazione, la mobilizzazione, l'igiene e la somministrazione di farmaci.Per quanto riguarda la situazione familiare, Ross ha spiegato che lui e sua sorella Monica erano gli unici figli del signor Rufus e che entrambi avevano una propria vita e una propria famiglia, il che rendeva molto difficile per loro dedicare il tempo necessario alle cure del padre.A quanto pare, la famiglia si occupava di lui a turno, ma non poteva più continuare con questa disposizione.Rachel rilesse le informazioni più volte, cercando di individuare qualsiasi segno di irregolarità.Tutto sembrava in ordine, così procedette a confermare l'accettazione del lavoro e a coordinare i dettagli della sua incorporazione.Una settimana dopo, Rachel si trovò davanti all'imponente cancello di Villa Rufus con le valigie al suo fianco.Il maggiordomo la accolse e la guidò attraverso i lossuosi giardini e i corridoi fino a raggiungere la stanza del signor Rufus.Entrando, Rachel poté apprezzare l'enormità e l'eleganza dello spazio.Il letto del signor Rufus occupava il centro della stanza, circondato da apparecchiature mediche e monitor.Accanto al letto, una comoda poltrona e un tavolino indicavano che qualcuno vi trascorreva molte ore.Benvenuta, signorina Green.Il signor Rufus la sta aspettando, disse il maggiordomo.Indicandole di avvicinarsi al letto.Rachel si avvicinò con cautela, osservando attentamente l'uomo anziano che giaceva lì.Il suo viso sembrava fragile ed emaciato, ma conservava ancora un'aria di distinzione ed eleganza tipica di un uomo della sua posizione.Sembrava dormire profondamente.Collegato a diversi tubi e cavi che monitoravano i suoi segni vitali.Buon pomeriggio, signor Rufus.Sono Rachel Green, l'infermiera che si prenderà cura di lei d'ora in poi, disse dolcemente, avvicinandosi a lui.Con sua grande sorpresa, gli occhi dell'anziano si aprirono lentamente e la guardarono con inaspettata lucidità.Rachel rimase paralizzata.Non sapendo come reagire, il signor Rufus la osservò in silenzio per qualche secondo e poi fece un debole sorriso.Benvenuta, Rachel, disse con voce roca e spezzata.Ti stavo aspettando.Come è possibile che lei?Rachel iniziò a chiedere, ma il signor Rufus la interruppe.SHH, calmati. Abbiamo molte cose di cui parlare, ma prima lascia che ti ringrazi per aver accettato questo lavoro, disse l'anziano con uno sguardo caloroso.Rachel Annui.Non sapendo bene come procedere.Beh, è un piacere conoscerla, signor Rufus.Mi permetta di presentarmi come si deve.Come ho detto, sono Rachel Green, un'infermiera con oltre dieci anni di esperienza.Mi occuperò delle sue cure ventiquattro ore su ventiquattro e farò del mio meglio per fornirle le migliori attenzioni che conosco.Rachel.So che sei un eccellente professionista e che sarai in grado di aiutarmi, rispose il signor Rufus, con voce appena udibile.Rachel addrottò le sopracciglia, sempre più confusa.Perdoni la mia domanda, signor Rufus, ma come è possibile che lei sia così lucido? Secondo le informazioni che ho ricevuto, lei era in stato vegetativo. Il signor Rufus sospirò e la sua espressione divenne più seria.Punto è proprio questo il motivo per cui ti ho portata qui, Rachel. Ho bisogno del tuo aiuto.Che cosa sta succedendo? Signor Rufus, c'è qualcosa che posso fare per lei? Rachel si avvicinò al letto. La sua curiosità cresceva.Punto sì, Rachel, c'è qualcosa di molto importante che devi sapere. Disse l'anziano signore, con la voce piena di preoccupazione. I miei figli, Ross e Monica, vogliono liberarsi di me. Gli occhi di Rachel si allargarono, sconvolti dalla rivelazione.Cosa, come è possibile? Il signor Rufus annui tristemente. È vero, Rachel, i miei figli hanno pianificato come eliminarmi per ereditare la mia fortuna. Per questo ti hanno assunta perché ti prendessi cura di me e potessi così portare a termine il loro piano.Mio Dio, signor Rufus, è terribile. Com'è possibile che lei sia così lucido nel suo stato? Chiese Rachel. Ancora incredula. È una lunga storia, Rachel.Lasciatemi spiegare, rispose l'anziano, sforzandosi di parlare. Qualche mese fa mi sono risvegliato dal mio stato vegetativo. I medici non riuscivano a spiegarlo, ma all'improvviso sono stato in grado di prendere coscienza di ciò che accadeva intorno a me. Da allora ho fatto finta di essere in coma, aspettando che la mia famiglia si fidasse del fatto che non mi sarei mai svegliato.Rachel ascoltava con attenzione. Incapace di credere a ciò che stava sentendo. E perché non ha detto nulla ai suoi figli? Perché ha fatto finta per tutto questo tempo? Perché temevo per la mia vita, Rachel? Disse il signor Rufus con una punta di tristezza nella voce. Da quando mi sono svegliato. Sono stato testimone dei piani che Ross e Monica hanno architettato per sbarazzarsi di me. Pensano che io sia ancora un vegetale e vogliono approfittare di questa situazione per uccidermi ed ereditare la mia fortuna.Rachel si sentì mancare il fiato. Tutto questo sembrava uscito da un film di suspense. Mio Dio, è terribile. Cosa faremo, signor Rufus? L'anziano signore la guardò con determinazione. È per questo che ti ho portata qui, Rachel. Ho bisogno del tuo aiuto per fermare i miei figli e smascherare il loro piano. Lei è l'unica persona di cui mi possa fidare.Rachel rimase senza parole. Sopraffatta dalla portata della situazione. Non aveva mai immaginato che il suo nuovo lavoro di infermiera avrebbe comportato qualcosa di così pericoloso e inquietante. Tuttavia, qualcosa nello sguardo supplichevole del signor Rufus la commosse profondamente. Nei giorni seguenti, Rachel si immerse completamente nel suo nuovo ruolo di infermiera personale del signor Rufus. Dal momento in cui accettò il lavoro, sapeva che avrebbe affrontato una grande sfida. Ma non avrebbe mai immaginato che la situazione sarebbe stata così delicata e pericolosa. Ogni mattina Rachel si alzava presto e si dirigeva verso l'imponente villa di Rufus. Una volta lì, si occupava diligentemente e professionalmente del signor Rufus, fornendogli le cure di cui aveva bisogno. Lo nutrì, lo mobilitò. Gli somministrò i farmaci e gli assicurò igiene e comfort. Nonostante il suo apparente stato vegetativo, il signor Rufus è rimasto lucido e vigile in presenza di Rachel. Parlavano a bassa voce, condividendo informazioni e coordinando i passi successivi per smascherare il sinistro piano dei suoi figli. I miei figli vengono a trovarmi due volte alla settimana. Di solito il mercoledì e la domenica. Spiegò il signor Rufus a Rachel durante uno di quei momenti di intimità. È fondamentale che durante queste visite facciate finta che io sia ancora in stato vegetativo. Non possiamo destare alcun sospetto. Rachel annui. Comprendendo la gravità della situazione. Farò come dice lei, signor Rufus. Manterrò le apparenze e farò tutto il possibile per proteggerla. L'anziano le rivolse uno sguardo di gratitudine. Grazie, Rachel. So che posso fidarmi di te. In questo momento, Rachel si sentiva commossa per la fiducia che il signor Rufus aveva riposto in lei. Nonostante il pericoloso complotto in cui era rimasta coinvolta punto era determinata ad aiutarlo e a impedire che i suoi stessi figli lo eliminassero punto nei giorni successivi. Rachel poteva osservare da vicino il comportamento di Ross e Monica quando andavano a trovare il padre. Entrambi apparivano premurosi e attenti, ma Rachel notò una certa freddezza e distanza nei loro gesti e nei loro sguardi punto in diverse occasioni. Li sorprese a scambiarsi sguardi complici o a sussurrarsi l'un l'altro fuori dalla vista del signor Rufus. Quando i bambini se ne andavano, Rachel commentava le sue osservazioni al signor Rufus punto l'anziano annui con dolore, confermando i sospetti di Rachel. Sì, il mio intuito non mi inganna. Ross e Monica stanno progettando qualcosa di terribile. Dobbiamo stare molto attenti, disse il signor Rufus. Con la voce piena di preoccupazione.Rachel si sforzò di rimanere calma e composta in quei momenti. Sapeva che qualsiasi errore avrebbe potuto mettere a repentaglio la fragile situazione in cui si trovavano.un pomeriggio, mentre Ross e Monica stavano uscendo. Rachel li accompagnò al portone. Poco prima di barcare la soglia, Ross si rivolse a lei con un'espressione seria punto signorina Green. Sono felice di vedere che mio padre è in buone mani. Spero che sappia che apprezziamo molto la sua dedizione. Disse Ross, anche se il suo tono di voce suonava un po' forzato punto grazie, signor Rufus. Mi impegno a fornire le migliori cure a suo padre, rispose Rachel, mantenendo un contemio professionale. Mentre li guardava uscire, un senso di inquietudine le si insediò nello stomaco punto sapeva di dover rimanere vigile punto nei giorni seguenti. Rachel continuò la sua routine di assistenza al signor Rufus, tenendo sempre d'occhio qualsiasi attività sospetta. La tensione nella villa era palpabile e Rachel sapeva che in qualsiasi momento la situazione sarebbe potuta degenerare punto finalmente arrivò il giorno in cui Rachel e il signor Rufus, decisero di agire. Avevano raccolto abbastanza prove per smascherare le intenzioni malevole di Ross e Monica. Sapevano che sarebbe stato rischioso. Ma erano determinati a porre fine all'incubo punto Ross e Monica arrivarono per la loro consueta visita e Rachel li accolse con la consueta gentilezza e professionalità. Li informò che il signor Rufus era stabile e che non c'erano aggiornamenti significativi punto poi si è ritirata con discrezione, lasciando i fratelli da soli con il padre. Una volta che Ross e Monica furono soli con il signor Rufus, questi aprì lentamente gli occhi e li guardò, con un'espressione fredda punto salve, figli miei. Disse e con voce bassa ma ferma punto Ross e Monica si bloccarono, incapaci di credere a ciò che stavano vedendo punto padre, com'è possibile? Ross balbettò, stupito punto oh, vedo che siete sorpresi. Non dovreste esserlo. Dopotutto. Siete voi che mi avete tenuto così per tutto questo tempo, rispose il signor Rufus, con un tono pieno di rimprovero punto Mon fece un passo indietro. Il suo volto mostrava un misto di paura e panico punto padre, non so di cosa stia parlando punto noi, non mi inganni più, esclamò il signor Rufus, interrompendola. So tutto dei vostri piani per sbarazzarvi di me ed ereditare la mia fortuna. Siete dei mostri punto Ross e Monica si scambiarono uno sguardo nervoso. rendendosi conto che la loro facciata era stata scoperta prima che potessero reagire punto la porta della stanza si aprì ed entrò Rachel. Seguica da due agenti di polizia punto cosa significa tutto questo? Ross gridò. Affrontando Rachel con furia punto signore e signorina Rufus, siete in arresto per tentato omicidio e frode. Annunciò uno degli agenti avvicinandosi a loro con le manette in mano punto Monica e mise un urlo soffocato. Con gli occhi spalancati dallo shock punto non potete farlo. Chiediamo un avvocato, protestò Monica. Con la voce piena di panico punto è troppo tardi per questo, Monica. Intervenne il signor Rufus, con la voce carica di delusione. Abbiamo raccolto abbastanza prove del vostro piano nefasto. Ora pagherete per i vostri crimini. I fratelli Rufus si dimenarono inutilmente mentre gli agenti di polizia li ammanettavano e li conducevano fuori dalla stanza. Le loro grida e le loro proteste svanirono in lontananza. Lasciando il signor Rufus e Rachel da soli. Rachel si avvicinò al letto e posò una mano rassicurante sul braccio dell'anziano. Come si sente, signor Rufus? L'uomo sospirò profondamente, con un'espressione di sollievo e tristezza riflessa sul volto punto sollevato, Rachel, ma anche profondamente deluso. Non riesco a credere che i miei figli siano stati capaci di una cosa del genere punto lo so, signor Rufus, deve essere molto doloroso per lei, rispose Rachel, stringendogli delicatamente la mano punto è un peccato che si sia dovuti arrivare a questo, ma non potevo permettere che quei due mi uccidessero e si prendessero la mia eredità. Disse il signor Rufus con un'espressione cupa. punto Rachel annui in silenzio, consapevole dell'enorme carico emotivo che l'anziano doveva sopportare in quel momento. Dopo qualche minuto, osò chiedere. Cosa succederà ora, signor Rufus? L'uomo la guardò con determinazione. Ora, Rachel, dobbiamo fare in modo che Ross e Monica paghino per i loro crimini. Non posso permettere che restino impuniti. Puoi contare su di me per qualsiasi cosa tu abbia bisogno. Farò tutto il possibile per aiutarti a ottenere giustizia. punto Rachel rispose con uno sguardo risoluto. Il signor Rufus fece un debole sorriso. Grazie, Rachel. So che posso fidarmi di te. Insieme faremo in modo che i miei figli ricevano la punizione che meritano. punto nei giorni seguenti. Rachel e il signor Rufus lavorarono instancabilmente per raccogliere ancora più prove e preparare il caso contro Ross e Monica. punto perlustrarono ogni angolo della villa. Esaminarono meticolosamente i registri bancari e contabili e raccolsero testimonianze di dipendenti e conoscenti della famiglia. punto finalmente arrivò il giorno del processo. Rachel accompagnò il signor Rufus in tribunale, fornendogli tutto il suo sostegno. Fu un'udienza tesa e carica di emozioni. con Ross e Monica Rufus accusati di tentato omicidio e frode. uno dopo l'altro. I testimoni e le prove presentate dall'accusa hanno demolito i fratelli. Difese deboli, documenti bancari, comunicazioni compromettenti e la stessa testimonianza del signor Rufus si sono rivelati schiaccianti. punto alla fine, dopo ore di deliberazione, fu emesso il verdetto. Ross e Monica Rufus furono dichiarati colpevoli delle accuse a loro carico. Entrambi i fratelli sono stati condannati a lunghe pene detentive, che riflettono la gravità delle loro azioni. Mentre gli agenti ammanettavano Ross e Monica e li scortavano fuori dall'aula. Rachel poteva vedere l'espressione di angoscia e sconfitta sui loro volti. punto il signor Rufus, da parte sua, rimase stoico. Ma Rachel poteva vedere il profondo dolore nei suoi occhi. Una volta che l'aula si fu svuotata, Rachel si avvicinò al signor Rufus, posandogli una mano sulla spalla. Come si sente, signor Rufus, chiese con dolcezza. L'anziano sospirò e la guardò con un misto di sollievo e tristezza. punto sopraffatto, Rachel, non avrei mai immaginato che i miei figli fossero capaci di una cosa così atroce. Capisco che deve essere devastante per lei vivere tutto questo, disse Rachel con dolcezza, stringendogli la spalla con affetto. Sì, Ross e Monica sono sempre stati ambiziosi ed egoisti. Ma non avrei mai pensato che sarebbero arrivati a tentare di uccidermi, rispose il signor Rufus, scuotendo la testa con dolore. Rachel rimase in silenzio, lasciando che l'anziano si spogasse. Sapeva che, nonostante la giustizia fosse stata fatta, la situazione doveva essere opprimente per lui. Beh, almeno hanno ricevuto il dovuto e ora pagheranno per i loro crimini, disse il signor Rufus, cercando di trovare un po' di conforto. Esatto. E voi siete al sicuro grazie al vostro coraggio e alle prove che abbiamo raccolto? Gli ricordò Rachel con uno sguardo pieno di ammirazione. Il signor Rufus annui lentamente. Sì, devo tutto a te, Rachel. Senza il tuo aiuto e la tua dedizione non sarei riuscito a fermare quei due. È stato un lavoro di squadra, signor Rufus. Sono onorata di averla potuta aiutare in questo momento difficile, rispose Rachel. Rivolgendogli un caloroso sorriso. L'anziano ricambiò il sorriso e prese la mano di Rachel nella sua. Ti sarò grato per sempre, Rachel. Lei è una persona straordinaria e so che posso fidarmi completamente di lei. Rachel sentì il cuore gonfiarsi di orgoglio e di emozione. La fiducia che il signor Rufus aveva riposto in lei durante tutta questa prova significava molto di più di un semplice lavoro. Tra loro si era creato un legame sincero. Un legame che andava oltre il rapporto infermiera-paziente. Dopo quell'intensa giornata in tribunale. La vita a Villa Rufus sembrò tornare a una relativa normalità. Il signor Rufus era di nuovo solo sotto le cure di Rachel, lontano dalle manipolazioni e dagli inganni dei suoi figli. Tuttavia, la tranquillità non durò a lungo. Una sera. Mentre Rachel stava rivedendo alcuni dischi in biblioteca, sentì un leggero rumore provenire dalla stanza del signor Rufus. Rufus, allarmata, si affrettò a indagare. Quando arrivò, trovò una scena che la lasciò impietrita. Il signor Rufus era semidisteso nel letto, ansimante e con un'espressione di panico sul volto. Sopra di lui, tenendo stretto un cuscino, c'era una figura familiare. Monica. Cosa stai facendo? Esclamò Rachel, avvicinandosi rapidamente alla donna. Stupita dall'interruzione, Monica lasciò cadere il cuscino e fece un po' passo indietro. Rachel, io. Stavo solo controllando mio padre, balbettò Monica con un'espressione colpevole. Il signor Rufus tossia fatica, e lanciò uno sguardo supplichevole a Rachel. Aiutami, ti prego. Senza esitare. Rachel si mise tra Monica e il signor Rufus, affrontando con decisione la donna. Si allontani da lui, signorina Rufus. So esattamente cosa stava cercando di fare. Monica la guardò con rabbia, con gli occhi che brillavano di un misto di paura e disperazione. Lei non sa nulla. Stavo solo cercando di aiutarlo. Si difese. Anche se la sua voce suonava tremolante. Aiutarlo? Pensi che io sia stupida? So benissimo che tu e tuo fratello avete intenzione di uccidere il vostro stesso padre, ribatté Rachel, senza staccare gli occhi dalla donna. Monica impallidì visibilmente. Rendendosi conto che il suo piano era stato scoperto. Non è vero. Non farei mai una cosa del genere, insistette, anche se la sua voce tradiva la menzogna. Basta con le bugie, Monica. So che c'eravate voi due dietro tutto questo e ora che siete state scoperte, non vi permetterò di fare del male al signor Rufus. Dichiarò Rachel con voce determinata. Monica la guardò con disperazione, con gli occhi pieni di panico. Ti prego, Rachel. Devi capire. Volevo solo la mia parte di eredità. Non potevo permettere a mio padre di tenersi tutto punto come osi parlare così. È tuo padre, esclamò Rachel indignata punto non capisci che io e Ross ci meritiamo coi soldi. Siamo i suoi figli, gridò Monica, la cui compostezza si era completamente spezzata punto il signor Rufus, debole ma vigile, osservava con orrore. Monica, ti prego, sei mia figlia. Come hai potuto fare una cosa del genere? La donna lo guardò con un misto di risentimento e senso di colpa punto mi dispiace, padre. Ma questo è l'unico modo in cui io e Ross possiamo ottenere ciò che ci appartiene. Senza preavviso, Monica si fiondò su Rachel, cercando di spingerla da parte. Togliti di mezzo, stupida infermiera. Finirò il lavoro punto io e mio fratello iniziamo ad essere sorpresi dalla violenza di Monica. Rachel riuscì a mantenere l'equilibrio e la spinse indietro con forza. Non te lo permetterò. Non farai del male al signor Rufus. Le due donne lottarono nella stanza finché Rachel riuscì finalmente a sottomettere Monica, immobilizzandola sul pavimento. In quel momento, il rumore di passi affrettati risuonò nel corridoio, seguito dall'arrivo di diverse guardie di sicurezza. Cosa sta succedendo qui? Esclamò uno degli uomini vedendo la scena punto fermatela. Monica Rufus ha appena cercato di uccidere suo padre, gridò Rachel, senza lasciare la donna punto le guardie reagirono immediatamente. Ammanettando Monica e trascinandola fuori dalla stanza con la forza. Lei scalciava e urlava, imprecando mentre veniva portata via punto il signor Rufus, visibilmente scioccato, osservava tutto con occhi spalancati. Mio Dio, questo è un incubo, mormorò, stringendosi il petto punto Rachel si avvicinò a lui e gli posò una mano confortante sul braccio. Si calmi, signor Rufus, ora è tutto finito. È al sicuro punto l'anziano la guardò con una profonda espressione di gratitudine. Rachel, non so cosa mi sarebbe successo se tu non fossi stata qui. Quella donna è mia figlia punto lo so, signor Rufus. Ma lei non ha colpa per quello che hanno fatto. Sono mostri senza cuore. Disse Rachel con dolcezza, stringendogli la mano punto il signor Rufus sospirò di dolore. Non avrei mai pensato che sarebbero arrivati a tanto punto Ross e Monica sono sempre stati ambiziosi, ma questo, Dio, questo supera ogni immaginazione. Non si biasimi, signor Rufus. Non è responsabile delle azioni spregevoli dei suoi figli. Lo consolò Rachel con voce calma punto l'anziano annui debolmente, emettendo un sospiro tremante. Hai ragione, Rachel, ma fa male lo stesso. Fa male sapere che i miei stessi figli volevano uccidermi, disse il signor Rufus, con la voce rotta dall'emozione. Rachel lo guardò con profonda empatia. Capisco che deve essere un peso enorme portare questo dolore, ma voglio che sappia che non è solo. Sono qui per sostenerla. Signor Rufus punto il signor Rufus le rivolse un debole sorriso. Grazie, Rachel. Non so cosa farei senza di te punto dopo quel terrificante incidente. La sicurezza di Villa Rufus fu drasticamente rafforzata. Il signor Rufus, ancora scosso dal tentato omicidio della figlia, rimase sotto costante sorveglianza. Con Rachel che lo sorvegliava giorno e notte punto anche Ross, dal canto suo, fu arrestato e incarcerato insieme alla sorella. Entrambi erano accusati di tentato omicidio e frode. E la prospettiva di trascorrere anni in prigione sembrava aver cancellato ogni traccia di arroganza o fiducia che potessero avere punto nelle settimane successive. Rachel rimase al fianco del signor Rufus, fornendogli tutto il suo sostegno e il suo affetto. L'anziano, sebbene si stesse ancora riprendendo dal trauma, sembrava trovare una certa pace e serenità nella compagnia dell'infermiera. Una sera, mentre cenavano insieme nella stanza del signor Rufus, l'uomo ruppe il silenzio. «Rachel, posso farti una domanda?» Disse, guardandola con un'espressione seria punto certo, signor Rufus, può chiedermi qualsiasi cosa, rispose lei. Posando la forchetta sul piatto punto il signor Rufus sospirò, e si sistemò un po' nel letto. «Dopo tutto quello che è successo, mi chiedo perché hai accettato questo lavoro, sapendo quanto poteva essere pericoloso punto» Rachel lo guardò con un sorriso cordiale. «Beh, devo ammettere che all'inizio ero incuriosita dalla generosa offerta di lavoro, ma poi, quando hai rivelato la verità sui tuoi figli, ho capito che non potevo lasciarti affrontare quella terribile situazione da sola punto capisco, ma nonostante ciò, hai rischiato la tua stessa incolumità facendoti coinvolgere. Perché lo ha fatto?» Il signor Rufus insistette con genuina curiosità punto Rachel lo osservò in silenzio per qualche istante. «Cercando le parole giuste punto credo che in fondo la vostra situazione mi abbia commosso molto. Signor Rufus, lei è una persona nobile e gentile che non meritava di essere trattata in quel modo dai suoi stessi figli punto il signor Rufus annui lentamente. Capisco, ma comunque lei ha fatto molto di più di quanto avrebbe fatto una normale infermiera. Ha persino messo in pericolo la sua vita per me punto beh, lei ha dimostrato di potersi fidare di me e anch'io ho imparato a fidarmi di lei», rispose Rachel. «Sentendo un leggero rossore sulle guance punto il signor Rufus la guardò con un misto di gratitudine e tenerezza. «Sei una donna eccezionale, Rachel. Non so come potrò mai ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me punto non deve ringraziarmi di nulla, signor Rufus. So che lei avrebbe fatto lo stesso per me», disse lei, prendendogli delicatamente la mano punto l'anziano le rivolse un sorriso caloroso e le strinse leggermente la mano. «Sei una vera amica, Rachel, e te ne sarò grata per sempre punto da quel momento in poi». Il rapporto tra Rachel e il signor Rufus si rafforzò ulteriormente. Passarono lunghe ore a parlare, a condividere storie e a creare un legame che andava oltre il semplice rapporto infermiera-paziente. Il signor Rufus si era sempre più ripreso dal trauma. Sembrava aver trovato una nuova motivazione a vivere e Rachel, da parte sua, si sentiva profondamente onorata e impegnata per il suo benessere. Insieme, seguirono da vicino i procedimenti legali relativi al caso di Ross e Monica. Entrambi i fratelli erano stati condannati a lunghe pene detentive, il che aveva portato loro un po' di pace.Tuttavia, Rachel sapeva che il signor Rufus portava ancora il peso emotivo di tutto quello che era successo.Un pomeriggio, mentre passeggiava nei bellissimi giardini della villa, il signor Rufus si fermò e guardò Rachel. Davvero, Rachel, c'è qualcosa di cui vorrei parlarti, disse con un'espressione grave.Certo, signor Rufus. Cosa le passa per la testa?Rispose lei. Dedicandogli tutta la sua attenzione.L'anziano sospirò e la guardò con determinazione. Dopo tutto quello che abbiamo passato, ho capito che il mio tempo in questo mondo non è molto più lungo e voglio assicurarmi che la mia eredità sia in buone mani.Rachel lo guardò. Sorpresa dalle sue parole.Cosa intende dire, signor Rufus?Intendo la mia fortuna e tutto ciò che ho costruito nel corso della mia vita.Ross e Monica si sono dimostrati indegni di ereditare tutto questo, spievò il signor Rufus con dolore.E vorrei che lo avessi tu.Rachel.Le parole del signor Rufus risuonarono nella mente di Rachel, lasciandola completamente sconcertata. Aveva sentito bene?L'anziano signore le stava davvero offrendo di ereditare la sua fortuna, signor Rufus, io, non so cosa dire.Questo è, questo è troppo.Rachel balbettò, incapace di credere a ciò che stava accadendo. L'anziano signore la guardò con un'espressione serena.Lo so, Rachel, so che è una proposta inaspettata, ma dopo tutto quello che hai fatto per me, sento che non c'è nessun altro a cui possa affidare la mia eredità, disse.Rachel scosse la testa, ancora stupita. Ma perché proprio io?Sono solo la tua infermiera, una persona che è entrata nella tua vita per caso.Proprio per questo, Rachel, rispose il signor Rufus. Sorridendo dolcemente.Tu, tu non sei come Ross e Monica, che hanno cercato solo di trarre vantaggio a mie spese. Hai dimostrato di avere un cuore gentile e sincero.L'infermiera lo guardò con un misto di emozione e scetticismo. Tuttavia, signor Rufus, non posso accettare una cosa del genere. È troppo.Ti prego, Rachel, lasciami fare. Voglio assicurarmi che la mia fortuna sia usata a fin di bene e so che con te sarà in buone mani, insistette l'anziano. Allungando la mano e stringendola delicatamente.Rachel rimase in silenzio. Cercando di elaborare tutto ciò che stava accadendo.Da un lato. L'idea di ereditare l'enorme ricchezza del signor Rufus sembrava inconcepibile. Ma dall'altro la fiducia e l'affetto che l'anziano le aveva dimostrato la commuovevano profondamente. Alla fine emise un sospiro e guardò il signor Rufus con Determinazione.Signor Rufus, apprezzo molto la sua fiducia in me. Ma non posso accettare questa eredità. Non sarebbe giusto, disse Rachel con fermezza.L'anziano la guardò con sorpresa. Perché no, Rachel? Perché tu meriti di godere della tua fortuna. Io sono solo la sua infermiera e accettare una cosa del genere significherebbe approfittare della situazione, spiegò Rachel con fermezza, con frustrazione e orgoglio.Rachel? Sei una donna straordinaria, ma devi capire che per me sei molto più di una semplice infermiera, disse il signor Rufus.Da quando sei entrata nella mia vita. Sei stata un pilastro fondamentale. Non solo ti sei presa cura di me con assoluta dedizione, ma hai anche rischiato la tua stessa sicurezza per proteggermi. Questo ti rende una persona molto speciale per me, continuò.Rachel sentì le lacrime salirle agli occhi, commossa dalle parole dell'anziano. Signor Rufus, lei ha già fatto molto per me. Non posso accettare questa eredità.Dopo quello che Ross e Monica hanno cercato di farmi, non posso permettere che la mia eredità cada nelle mani sbagliate e so che con te, Rachel, sarà al sicuro, disse il signor Rufus. Stringendole delicatamente le mani.Ma se non fossi in grado di gestire una cosa del genere? Non ho esperienza nella gestione di una fortuna, chiese Rachel con un misto di gratitudine e paura.Non si preoccupi. La rassicurò il signor Rufus.O persone fidate che ti guideranno e ti consiglieranno in tutto ciò che è necessario. Le assicurò il signor Rufus con un sorriso rassicurante. Rachel rimase in silenzio, sopraffatta dall'offerta.Sapeva che rifiutare una cosa del genere avrebbe potuto ferire i sentimenti del signor Rufus.Ma allo stesso tempo l'idea di diventare l'erede di tutte le sue ricchezze le sembrava troppo.Alla fine sospirò e guardò l'anziano con decisione. Signor Rufus, apprezzo molto la sua fiducia in me, ma non posso accettare di essere l'erede della sua fortuna.L'anziano la guardò con sorpresa e delusione. Perché no, Rachel?Pensavo che avrebbe capito quanto sia importante per me assicurarmi che la mia eredità sia in buone mani.Capisco, signor Rufus, ma non me la sento di accettare una cosa del genere. Lei merita di godersi la sua ricchezza e di usarla come meglio crede, spiegò Rachel con dolcezza, stringendogli le mani.Rachel, ti prego. Ho bisogno di sapere che la mia fortuna non finirà nelle mani di persone come Ross e Monica. Tu sei l'unica di cui mi fido pienamente, disse l'anziano, cercando le parole giuste.Capisco la sua preoccupazione, signor Rufus, ma non posso accettare una cosa così importante. Non sarebbe giusto, rispose Rachel.Non capisci quanto sei importante per me, Rachel, hai rischiato tutto per proteggermi. Sei l'unica persona di cui mi posso fidare, disse il signor Rufus, guardandola con frustrazione. punto signor Rufus, anche lei è molto importante per me, ma non posso accettare questa eredità. Non sarebbe giusto nei suoi confronti, rispose Rachel con uno sguardo pieno di affetto.Capisco, Rachel, rispetto la tua decisione, anche se mi fa male. So che sei una donna integerrima e con un grande cuore. disse dolcemente il signor Rufus, stringendole le mani.Molto bene, Rachel, rispetto la tua decisione, ma voglio che tu sappia che, in un modo o nell'altro, voglio assicurarti un futuro sicuro, disse il signor Rufus.Cosa intende dire, signor Rufus? Rachel chiese con sorpresa.Voglio dire che, anche se non puoi accettare la mia eredità, mi assicurerò che tu abbia una buona ricompensa per tutto quello che hai fatto per me. Spiegò il signor Rufus.L'anziano spiegò, mostrando un piccolo sorriso. Rachel scosse la testa, pronta a protestare. Signor Rufus, non è necessario. Tutto quello che ho fatto è stato perché lo meritavi, non per una ricompensa.Lo so, Rachel, ed è proprio per questo che voglio farlo. Il signor Rufus insistette con uno sguardo determinato. Dopo tutto quello che hai sacrificato per me, meriti di avere una vita serena e sicura.L'infermiera lo guardò con un misto di gratitudine e preoccupazione. Signor Rufus, non deve fare nulla. Ha già fatto molto per me. Ti prego, Rachel, lasciami fare.è il minimo che possa fare per ringraziarla, disse l'anziano con una supplica negli occhi.Rachel rimase in silenzio per qualche istante, sapendo che era inutile cercare di dissuadere il signor Rufus. Infine, annui gentilmente. Molto bene, signor Rufus, accetto la sua offerta. Rispose con un sorriso rassegnato.L'anziano sorrise soddisfatto e strinse delicatamente le mani di Rachel. Sono contento, Rachel. So che farai buon uso di ciò che ti offro.Da quel momento in poi. Il signor Rufus e Rachel si misero a pianificare e a garantire il futuro dell'infermiera.Sebbene Rachel si sentisse ancora a disagio per la generosa somma di denaro che avrebbe ricevuto, non poteva fare a meno di provare una profonda gratitudine verso l'uomo che le aveva affidato la sua eredità.Con il passare dei giorni? Il signor Rufus sembrava più calmo e tranquillo. Era riuscito a smascherare i sinistri piani dei suoi figli e a proteggere il suo patrimonio dalle mani sbagliate.Ora doveva solo godersi gli anni che gli restavano circondato dalla compagnia e dall'affetto di Rachel.Un pomeriggio, mentre passeggiava nei giardini della villa, il signor Rufus si fermò a guardare Rachel pensieroso. «Rachel, posso chiederti, chiederti qualcosa?» Le chiese gentilmente. «Certo, signor Rufus. Cosa c'è?» rispose lei, dedicandogli tutta la sua attenzione. L'anziano la guardò con un misto di affetto e malinconia. «Ha mai pensato al suo futuro? A cosa farà quando non ci sarò più?» Rachel lo fissò sorpresa, incerta su come rispondere. «Beh, onestamente non ci ho pensato molto. La mia principale preoccupazione è stata quella di rimanere qui a prendermi cura di te. Il signor Rufus annui lentamente.Capisco, ma ora che ha messo al sicuro la mia eredità, ha pensato di rifarsi una vita? L'infermiera lo guardò pensierosa. Credo di sì, anche se non ho avuto molto tempo per pensarci. Perché me lo chiede, signor Rufus?» L'anziano sorrise dolcemente. «Perché voglio sapere se ha dei sogni o dei progetti che vorrebbe perseguire. Qualcosa che la appassiona e che può realizzare con la sicurezza che le ho fornito. Rachel sorrise dolcemente al signor Rufus. Beh, ho sempre sognato di aprire una clinica che offra cure mediche di qualità alle persone a basso reddito. Aiutare chi ha bisogno è stata la mia più grande motivazione come infermiera. Il signor Rufus annui con approvazione. Sono contento di sentirlo. «Rachel, credo che sarebbe un progetto eccellente in cui incanalare le sue energie e le sue capacità. Ma, signor Rufus, aprire una clinica richiede un grosso investimento. Non potrei farlo senza il vostro generoso sostegno», disse Rachel. «Rachel, che si sentiva ancora sopraffatta dalla magnanimità dell'anziano. Sorrise serenamente. È proprio questo lo scopo di ciò che ho organizzato per lei. Voglio che tu usi quel denaro per realizzare il tuo sogno e aiutare chi ne ha più bisogno». Gli occhi di Rachel si riempirono di lacrime. «Signor Rufus, non so come ringraziarla. È troppo. Non posso accettarlo. Per favore, Rachel, lasciami finire». L'anziano signore interruppe gentilmente. «Voglio che usi quei soldi per cambiare delle vite. Rachel, so che lo farai con la stessa dedizione e compassione con cui ti sei presa cura di me». Rachel strinse le mani del signor Rufus, profondamente commossa. «Farò tutto il possibile per onorare la sua fiducia, signor Rufus. Le prometto che la clinica sarà un luogo dove migliaia di persone potranno ricevere le cure mediche che meritano». L'anziano sorrise con orgoglio. «Ne sono certo, Rachel, so che farai un lavoro eccellente nei mesi successivi». Rachel si dedicò con incrollabile determinazione a realizzare il suo sogno. «Grazie al generoso lascito del signor Rufus. Rachel ha potuto acquistare un terreno e costruire una clinica all'avanguardia con le più recenti tecnologie mediche. Circondata da un team di professionisti dedicati. Rachel ha lanciato l'iniziativa offrendo cure di qualità a persone a basso reddito che altrimenti non avrebbero avuto accesso a servizi. Medici adeguati. Giorno. Dopo giorno, Rachel ha osservato come la clinica diventasse un faro di speranza per la comunità, riempiendola di immensa soddisfazione. Sapeva che l'eredità del signor Rufus veniva usata a fin di bene. Proprio come lui aveva voluto. Nel frattempo, l'anziano trascorse gli ultimi giorni nella villa. Avvolto dalle cure e dalla compagnia di Rachel. Vederla realizzare il suo sogno gli portò una pace e una gioia che non provava da anni. Un pomeriggio, mentre conversavano in biblioteca, il signor Rufus prese delicatamente la mano di Rachel. «Rachel, voglio che tu sappia quanto sono immensamente orgoglioso di te. Hai onorato la mia fiducia nel miglior modo possibile!» Disse l'anziano signore, con un sorriso pieno di emozione. Rachel incontrò il suo sguardo, con gli occhi lucidi di lacrime. «Signor Rufus, è tutto merito suo. Non potrò mai ringraziarla abbastanza per la sua gentilezza e generosità», rispose Rachel. Il vecchio le strinse la mano con calore. «No, Rachel, sei tu che mi hai dato così tanto. La tua compagnia, il tuo sostegno e la tua dedizione sono stati doni inestimabili per me», disse. Si guardarono in silenzio per qualche istante. «Riconoscendo il legame speciale che li univa.Rachel, ho un altro favore da chiederti», disse dolcemente il signor Rufus. «Qualsiasi cosa, signor Rufus. Sai che puoi sempre contare su di me», rispose lei con uno sguardo pieno di affetto. Il vecchio la guardò con calma. «Quando non ci sarò più, promettimi che continuerai a perseguire il tuo sogno. Promettimi che continuerai ad aiutare gli altri attraverso la clinica», le chiese. Una lacrima scivolò lungo la guancia di Rachel. «Lo prometto, signor Rufus. Farò tutto il possibile per onorare la sua eredità e seguire il suo esempio compassionevole». Gli assicurò. Il signor Rufus le rivolse un ultimo sorriso e le strinse delicatamente la mano. «Grazie, Rachel. So che lo farai», disse dolcemente. Poco dopo, circondato dall'amore di Rachel, Frank Rufus si spense serenamente. «Lasciandosi alle spalle una vita piena di successi e di amare delusioni». Ma la sua eredità più grande sarebbe stata la clinica che Rachel aveva costruito con la sua generosità. Un luogo dove il suo spirito di servizio e compassione sarebbe vissuto per sempre. Fedele alla sua parola, Rachel si impegnò a fondo nella gestione e nella crescita della clinica. Trasformandola in un faro di «assistenza sanitaria di qualità per le comunità più bisognose». Ogni giorno pensava a Rufus e al suo esempio di generosità. Lavorando duramente per realizzare il sogno che avevano in comune. In questo modo. L'eredità di Frank Rufus sarebbe sopravvissuta grazie agli sforzi incessanti di Rachel. Con il suo cuore nobile e il suo impegno al servizio, ha cambiato la vita di migliaia di persone, onorando la fiducia che l'anziano aveva riposto in lei.